Siamo tutti ciechi, di fronte alla realtà, immobili, di fronte alla vita. Ci spaventa il nuovo, il muoversi. Quante inquietudine questa precarietà. La natura delle cose è imprevedibile, lascia il suo segno. Le parole stancano la mente e lo sguardo si perde nell'orizzonte della vita. Bianco, bianco come il nulla, bianco come se tutto fosse vero, bianco come il mare, senza vita. Viviamo impregionati, vitrificati. Solo noi possiamo liberarci da queste catene e ascoltare la divinità che sussurra ad ogni istante la vita. Come freccia scagliata, ecco l'ispirazione. Non la posso fermare. Mi prende la mente, sono sua, non conosce ostacoli. Ti accende e ti fa sentire vivo, vivo di nuovo. È una gioia immensa. Nulla ha più senso. Il mio essere riprende la sua forma originale e la luce, le parole, le note, i ricordi si fondono insieme e io mi fondo con loro. La mia anima è fatta di mille colori. Posso di nuovo sentire il calore della mia pelle, il profumo del sole la mattina, la sensazione di un petalo tra le dita, senza rimorsi, senza colpo. C'è ancora qualcuno che sa ascoltare. C'è ancora qualcuno che sa sentire. C'è ancora qualcuno che sa provare. Il mio corpo rompe i confini. Si fa onda, vento, si fa pianta, si espande. È un universo. È la nostra forza che fa storia vera. È la nostra forza aggregativa. Che ci rende divini. Ci fa immortali. Trascende il tutto. Anche noi. Anche noi. Anche noi. Anche noi. Si fa. türmo. Anche noi. Accra! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti